Amici, buongiorno, benvenuti. Oggi sono arrivato in Friuli, Venezia Giulia e sono in un posto meraviglioso, Lignano Sabbia d'Oro. Marco, allora, perché Lignano Sabbia d'Oro? Lignano Sabbia d'Oro perché Sabbia d'Oro rappresenta la sabbia dorata della spiaggia e perché negli anni 50-60, quando Lignano ha avuto il suo sviluppo, si è deciso di dargli questa caratteristica. Come mai vi hai portato qui al Faro? Questo penso che sia uno dei posti più belli della località. Abbiamo oltre il Faro l'isola delle Conchiglie, abbiamo tutto quello che rappresenta la parte naturalistica della località, la parte balneare, la parte più romantica forse del paese. Serino, perché bisogna venire a Lignano Sabbia d'Oro? Ci sono mille motivi per venire a Lignano Sabbia d'Oro, è una località che è strutturata per tutti i tipi di turismo, dai bambini fino agli adulti. Ci sono parchi tematici, ristoranti, enogastronomia, percorsi ciclabili, immersi nel verde, quindi è una località che poi è anche molto attenta al... Donatella, la spiaggia dorata di Lignano. Ecco, quanto è lunga questa spiaggia? Allora, 8 km di spiaggia, 38 stabilimenti che sono pronti a soddisfare qualsiasi esigenza del nostro ospedale. Che tipo di sport si può trovare qui? Allora, abbiamo delle zone attrezzate per fare il surf, windsurf, vela, nuoto, qualsiasi cosa, col paraself, possiamo anche sovrollare la spiaggia, per cui è una bellissima emozione. Tutti gli stabilimenti sono attrezzati con zone baby club, per i bambini c'è di tutto. C'è di tutto, classico free. Vuol dire anticipare l'OE, sostituire prodotti monouso in plastica con prodotti compostabili. Uno spot eccezionale. Invidiamo tutti gli amici di una mattina estate a venire a Lignano a sabedoro perché ce n'è proprio per tutti i gusti. Assolutamente, ci vi aspettiamo. Ciao a tutti da Lignano, arrivederci.